bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e i nuovi eventi che stanno per arrivare eh sì ragazzi perché ufficialmente è uscita la notizia di un nuovo concerto nel party royal e non è un concertino si va veramente su roba grossa parlerò di oggi dei nuovi concerti appunto dei bts che sono una delle boy band più famose attualmente al mondo ma parleremo anche dell'uscita della nuova xbox e di un'immagine incredibile che è stata postata e subito cancellata direttamente da fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo a parlare di questo grandissimo argomento di oggi partendo dal post ufficiale nella pagina twitter di fortnite can you hear the bass boom we are ready for dynamite bts big haiti is coming to party royal for the world premiere quindi ragazzi come vedete questa è l'immagine di questi 2467 ragazzi che compongono questa boy band velocemente vi faccio vedere il trailer il mini trailer ed eccolo qua molto rapido molto veloce ragazzi chi sono chi sono i bts perché sono così famosi sono così famosi perché dal 2013 sono in attività e hanno venduto qualcosa come 20 milioni di cui 300 mila copie fisiche dei propri dischi sono stati gli unici nella sud corea a raggiungere dei livelli davvero epici per quanto riguarda la loro musicalità e sono sfonda e hanno sfondato perché nelle loro canzoni vengono trattati degli argomenti molto sensibili a tema adolescenziale soprattutto riguardanti il bullismo verso le persone che sono preso di me che sono presi di mira il fatto di non isolarsi dagli altri e comunque dei temi davvero molto molto etici che gli hanno appunto valso le stelle in sud corea abbiamo ovviamente tutta una grandissima serie di descrizione direttamente nella parte delle news di fortnite che andiamo a leggere dicono light up i bts arrivano nel party royal di fortnite i bts sono pronti a dominare il palco principale di party reale per tutti i loro fan sabato 26 settembre alle 2 del mattino ora italiana salta nel party reale per la premiere mondiale del video musicale dell'esplosivo singolo dynamite che è proprio il loro singolo di punta di bts coreography version inizia la festa stile bts danza sulle note con due nuove emote coreografiche dei bts sfoggiali durante lo spettacolo per portare lo stile ovunque vai queste nuove mosse saranno disponibili nel negozio a partire dal 24 settembre alle 2 del mattino ora italiana ballare come un membro dei bts è facile se possiedi questi emoti di fortnite non devi far altro che aprire la scheda armadietto nel gioco e assicurarti che vengano assegnate se devi perderti la premiera oppure vuoi semplicemente rivedere i bts vieni con noi sabato 26 settembre alle 14 ore italiana per guardare la replica è il tuo primo evento di party royal se ti serve aiuto per entrare nel party consulta la nostra guida ti consigliamo di arrivare in anticipo per goderti l'evento quindi ragazzi qua si sta parlando di un grandissimo grandissimo evento come ci dice anche l'ultima parte della della scheda non devi aspettare questo fine settimana per divertirti a partire da martedì 22 settembre alle ore 16 salta nella modalità creativa di fortnite per calarti nel mondo del video musicale dynamite con una ricostruzione realizzata dai membri della community muoviti come se fossi nel video per completare sfide e minigiochi qua ragazzi si parla appunto come vi ho anticipato qualche secondo fa di una collaborazione di un evento che rischia di avere i numeri del tanto ambizioso marshmallow event ragazzi sebbene poi è stato superato da travis scott che tuttora reputo sia uno dei tre migliori eventi della storia di fortnite travis scott mi ha fatto alzare i peli così meraviglioso nonostante io non ascolti quel genere di musica quindi tanta roba preparatevi perché questo sarà un grande grandissimo concerto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché e sbam questa è un'immagine ufficiale pubblicata da fortnite nella loro pagina twitter ma cancellata praticamente subito cosa c'è di strano beh lo avete già capito come vedete in alto solo duo squad team rumble quindi la rissa squadre ma guardate la terza casella della seconda fila world cup duos il che vuol dire che sono davvero prontissimi a preparare le qualifiche per il nuovo campionato del mondo di fortnite che qui appunto sembrerebbe essere in coppia e devo dire che vedere un campionato in coppia beh beh non è male immaginate di assistere alla finale con i due giocatori che si parlano che sfruttano le strategie che si muovono durante la partita tanta tanta roba una uno sneak peek un quello che volete ragazzi sbagliato da fortnite ma che ovviamente i più attenti sono riusciti a prendere e quindi aspettiamoci davvero la notizia ufficiale delle qualifiche per le coppe per la coppa del mondo in duo e arriviamo all'ultimo argomento di oggi che purtroppo secondo me non ha avuto un grande riscontro come la sua controparte di ps5 è stata annunciata per oggi la possibilità del preorder della xbox serie x e serie s qua come vedete ragazzi nell'immagine secondo me è un po troppo presa sotto gamba cioè per la ps5 esploso il web per la xbox away ho dovuto andare a cercare le informazioni e mi è capitato per caso quindi non ne sta quasi parlando nessuno ma questa ragazzi è l'immagine che ci interessa the xbox series x and s preorders kick off tomorrow in realtà sarebbe oggi september 22 la serie x costerà 499 dollari la serie s 299 come vedete abbiamo gli orari del preorder a noi interessa e u middle east e africa alle 9 del mattino quindi in teoria fra pochissimo ragazzi fra circa un'ora e mezza insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao